gentili telespettatori buona giornata colpo di scena sulla benzina sono partiti ieri diciamo è partito ieri l'abbassamento cancellando momentaneamente delle accise per un monto per un totale di 25 centesimi ma da oggi cioè da ieri ci sono già i nuovi aumenti che stanno andando a cancellare quei 25 centesimi abbonati dal dal governo fino al 20 21 di aprile perché neanche il tempo di esultare ho fatto gol per la discesa del pezzo dei carburanti che soltanto 24 ore dopo vengono registrati nuovi aumenti si parla di beffa per gli automobilisti la colpa sarebbe dei fortissimi rialzi delle quotazioni petrolifere internazionali con il barile di brent superiore ai 120 dollari tant'è che già questa mattina i prezzi consigliati sono tornati a salire mangiandosi circa un quinto dello sconto sull'accesa insomma dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto anti rincari la situazione per benzina e diesel torna a farsi sentire con tutta la sua nefasta forza ieri 23 marzo il diesel è salito di 6 centesimi al litro nell'ultima settimana il gasolio è salito di 24 centesimi al litro la benzina di 10 centesimi al litro pertanto capite che il quello che il governo ci ha messo viene assolutamente mangiato tra qualche giorno sarà come se non fosse mai esistito il taglio dei 25 centesimi di accise con l'iva che poi superavano i 30 centesimi io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata